mister domani si va nella casa della prima della classe una squadra che ha fatto sin qui 71 punti che in casa non ha mai perso e che viene da sette vittorie consecutive si descrive da sola l'avversario che domani dobbiamo andare ad affrontare però andiamo faremo quello che il massimo che possiamo fare consapevoli della forza dell'avversario ma consapevoli che se sotto l'aspetto dello spirito della della dell'attenzione nella voglia saremo pronti renderemo cara la pelle che cosa hai detto la squadra in questi giorni che tipo di partita si deve fare per provare a fare punti sul campo più complicato di questo campionato che non esiste nessuno al mondo che possa tornare far tornare indietro gli eventi la partita di domenica è andata come è andata speravamo un risultato diverso non siamo riusciti ad ottenere la vittoria e quindi dobbiamo proseguire andare avanti andando a ad affrontare al massimo ogni partita che che avremo da rispettare recupero in montevago dopo tre giornate di squalifica anche per caratteristiche da prima punta e quindi sicuramente potrà essere uno di quelli tra quegli scelti o sicuramente a parte in corso la prima di tre partite difficili che ci saranno nel giro di una settimana però insomma come ci hai raccontato anche più volte la tua concentrazione sull'impegno alla volta ma è chiaro devo consapevoli del tipo di partita che andremo il tipo di avversario che andremo ad affrontare farò delle scelte ben precise speriamo di di avere sempre tutti a disposizione